Per l'ampliamento della discarica di Albonese non ci sono elementi tali da negare le autorizzazioni, anche se provincia di Pavia e comune di Parona hanno messo sul tavolo alcuni problemi di cui si dovrà tenere conto. Questo è il bilancio della prima conferenza dei servizi tenuta in videoconferenza, la quale non ha partecipato il comune di Albonese per un impedimento improvviso del sindaco. Manca dunque al momento un parere fondamentale, quello del comune su cui si andrà ad ampliare l'impianto. Intanto si registrano le obiezioni di comune di Parona e provincia di Pavia. Da Parona non sembrano per niente convinti del progetto e hanno fatto sapere che presenteranno osservazioni a 360 gradi, impatto sul paesaggio naturale, emissioni in atmosfera, ricordiamo che con l'ampliamento della discarica è previsto il passaggio di un camion di rifiuti ogni 16 minuti, compensazioni ambientali e salute umana. La provincia da parte sua, pur evidenziando che non ci sono elementi ostativi al progetto, sottolinea che, secondo il piano regionale di gestione dei rifiuti, occorre fornire indicazioni precise sul flusso dei rifiuti. Indicando quali non siano recuperabili e di conseguenza giustificare l'effettiva necessità dell'impianto secondo i fabbisogni regionali. Entro un mese verrà fatto un rapporto sull'impianto esistente, da cui di conseguenza dipenderanno le valutazioni sull'ipotesi di ampliamento. Sembra essere caduta invece l'obiezione posta dalla regione sulla gestione delle acque piovane che finiranno nel torrente Arbonia. L'azienda ha fatto sapere che non ci saranno variazioni rispetto a quanto accade già ora. Ci sarà tempo fino alla fine di questa settimana per chi vorrà depositare ulteriori osservazioni al progetto, dopodiché si procederà con un altro esame.